Fine fine anno e siamo arrivati a quel video, il video di recap di tutto quello che è successo nel 2023, vincitori, vinti, tutto quello che i mercati delle cripto hanno creato, cosa è successo sui mercati in questo splendido, meraviglioso, scioccante, iper intelligente anno 2023. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con il mio lancio della moneta e intanto a tutti quanti volevo augurare una buona fine e buon inizio per l'anno 2023 e questo è l'ultimo video del 2023 perché ragazzi il prossimo sarà nel 2024. Tra le altre cose sarà anche un video in cui vi presenterò una grande sorpresa per quanto riguarda tutto l'entourage, quello che c'è dietro al canale YouTube, quindi l'azienda Trading On eccetera, tutto quello che si andrà a modificare e la nascita di un nuovo progetto molto bello che piacerà a tantissimi, penso, anzi sono sicuro piacerà veramente a tantissimi, quindi tenetevi pronti il 2 gennaio per questo iper evento di presentazione perché l'uno saremo un po' secondo me un po' tutti alticci anche se se succede qualcosa io l'uno voglio fare il video anche l'uno. Allora facciamo il punto di tutto quello che è successo in questo 2023, tutto quello che è stato l'anno di Bitcoin, un anno meraviglioso, fantastico ragazzi e quelli che sono stati anche i rendimenti delle altre criptovalute, ci sono alcune cripto che hanno performato veramente bene e altre che hanno performato sotto tono un po' a quello che c'eravamo aspettati, un po' che si aspettava e vediamo un po' anche dove siamo indirizzati perché c'è un indicatorino, una cosettina che voglio farvi vedere, anzi già vi faccio lo spoilerone di questo graficuccio che dobbiamo andare a ragionare che ha una correlazione stra interessante in questo momento. Allora partiamo subito, anzi intanto per chi non si fosse ancora iscritto iscrivetevi che è l'ultimo video del 2023, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi gli auguri e i mi piace nei commenti ragazzi perché io vi auguro veramente il meglio da parte mia a tutti quanti voi e infatti a prescindere il ringraziamento più importante va a tutti quelli che mi seguono da tutti questi anni e ci stiamo divertendo un po' insieme, facciamo questo cammino insieme, io non oso immaginare quel giorno che magari fra dieci anni ci guarderemo intorno a dire vi ricordate dove eravamo con le cripto? Vi ricordate quando stavamo attendendo l'approvazione dell'ETF? vi ricordate che cosa è successo in tutto quegli anni? Io non vedo l'ora di fare questo video, il video mi ricordate di questa cosa, già potrei farlo per gli anni precedenti però aspetto perché secondo me ci sono delle positive news nei prossimi anni che saranno molto più impattanti. Allora, per quanto riguarda la vittoriosità di Bitcoin, se si può dire così, rispetto agli altri asset, schiappo ancora questa volta 170% circa di rendimento un po' di più, un po' di meno rispetto alle oscillazioni che avrà oggi, che chiude in pratica la settimana, quella ufficiale proprio venerdì e poi riaprirà nel 2024, anche se domani e dopodomani, sabato e domenica, resta operativo Bitcoin, sapete che oscilla anche nelle giornate nelle altre giornate, nei weekend, perché resta aperto, però sostanzialmente il clou si chiude proprio nella giornata di oggi. in questa parola di congestione con il massimo del 2023, che credo che sia ormai definitivo e sarà a 44.699, quindi 4.007 prezzi Bitfinex che è un massimo che nessuno si aspettava ragazzi, è andato anche oltre quelle che erano le stime iniziali, io avevo indicato più o meno l'aria intorno ai 3940k è andato oltre quelle stime, io sono molto prudenziale, ci sta meglio così, e siamo arrivati addirittura a 44.00, molto bene chi aveva previsto i 42.00, che erano un altro target, ma non abbiamo rotto la famosa resistenza di cui vi ho parlato quella a 46.5, perché quella era veramente molto difficile, tanto è vero che quando ho fatto anche quel video ragionando sulla possibilità che Bitcoin potesse bercare questo tipo di resistenza, era un po' eccessiva insomma, non c'è riuscito, ma questo ci può stare, in ogni caso ragazzi, vince su Nasdaq 100 con più 44% rispetto quindi a Bitcoin più 160, vince rispetto a SP500 che fa intorno al 20% e quant'altro nonostante siano andati bene anche i mercati standard normali, vince sul Gold che fa intorno al 15% insomma ragazzi, c'è un mare di differenza, non c'è neanche dal confronto, cioè non è che stiamo parlando di un asset che si può confrontare con altri asset importanti, solo se lo confrontiamo con le performance di alcune stocks, quindi di alcune azioni che sono anche top azioni ragazzi, Apple, Microsoft eccetera allora un pochino ci può stare un confronto, ma comunque vince a mani basso Bitcoin l'asset ancora una volta degli ultimi 15 anni senza ombra di dubbio è il numero 1 ragazzi perché è vero che oscilla in maniera consistente ma è anche vero che essendo un asset volatile poi è quello che dà le maggiori soddisfazioni anche in altri ambiti, quindi bravo Bitcoin anzi facciamo così, do il bacio alla moneta, bravo Bitcoin perché ancora una volta stravinci su tutti gli altri asset a mani basse ragazzi, allora questo è il grafico che vi mostra anche un'altra cosa interessante che CoinDesk ha il CMI che è il CoinDesk Market Index, cioè una serie di criptovalute di settori cripto che in pratica ha fatto 5 volte il rendimento del SP500 quest'anno lo indica ma ha fatto meno in ogni caso di Bitcoin, questo proprio anche considerando appunto questa situazione di come Bitcoin è stato forte. Nella linea verde che vedete qui c'è Bitcoin poi abbiamo Ethereum, il giallino e la delusione sicuramente per molti dell'anno 2023 c'è senza dubbio ed è ETH, CMI e poi l'SP500 questa lineetta rossa qui. Allora che cosa include questo cripto index che ha fatto CoinDesk? Lo andiamo a vedere perché è interessante perché hanno una serie di categorie di settori interni, si può fare anche settore per settore ma io ho trovato questo articolo di CoinDesk, ve l'ho posto anche così, gli date un'occhiatina, non è interessante l'articolo poi interessante diciamo le tabelle vi dico francamente, però è molto carina il discorso che siano già divisi i settori. Allora computing ha fatto più 166%, la currency 150, tutti i settori insieme non le singole, cripto, smart contract il 107, DeFi, anche DeFi ovviamente la delusione dell'anno 2023 ma questa si poteva anche prevedere fosse così perché era un mercato che bisognava probabilmente riorganizzare, quindi niente di anomalo, culture entertainment e la digitalizzazione del 10% insomma proprio molto bassa. Andando a vedere invece le singole Coin, la performance top level senza ombra di dubbio tra le top Coin, questo è aggiornato a dicembre, dovrebbe essere 21 dicembre esatto, questo dato è aggiornato al 21 dicembre 2023, ING, Inject che ha fatto una performance stellare del 3.219% aggiornato appunto al 21, render con il 972, Solana, FET, Solana ancora tra le top sicuramente il criptovaluta che ha performato meglio di tutte le top 10 ed è stata una cripto esemplare nel 2023, ci sta però ricordiamo anche un'altra cosa ragazzi, nel 2022 Solana partiva da un minimo molto basso dovuto al crash che ha subito, quindi è vero che ha iper performato nel 2023 ma lo ha fatto perché comunque partiva da un prezzo che era proprio basso rispetto alla sua normalità, quindi in realtà il corretto confronto Solana con le top 10 andrebbe realizzato su due anni e non su un singolo anno perché bisognerebbe andare a considerare anche il fatto che Solana era scesa moltissimo e quindi ovviamente fare performance poi a x2, x3, x4 è più semplice da un numero più basso, è ovvio che una capitalizzazione molto alta come quella di Bitcoin è difficile vedere questi numeri, però Solana è comunque una capitalizzata quindi non è una middle cap e quindi è geniale diciamo, è bellissimo vedere questo tipo di risultato sia ripresa alla grande, molti nutrono dubbi su questo rialzo, sul fatto che possa perdurare nel tempo ma trend is your friend come dico, se speculate sul progetto e siete insomma anche investitori ma oculati che avete idea di quello che state facendo, che non vi fate prendere la sprovvista da un cambio di trend come state nel 2022 e non vi succede niente, avete fatto l'investimento della vita si può dire, ok? Poi ce ne sono tanti altri eccetera, anche AVAX che è entrata nel mio portafoglio insieme ad altre criptovalute e insomma per esempio su AVAX io stesso sono riuscito a fare oltre il 100% insieme alla Academy ragazzi perché l'abbiamo inserita, però abbiamo una fase di accumulo su questo è cripto quindi non sono grandi i capitali però già in performance sono insieme l'intero portafoglio in un mese e mezzo circa, no due mesi scusate, circa il 22% ci può stare perché sono degli accumuli, questo lo stiamo facendo per il 2025 a dire la verità allora anche queste sono le top, le peggiori sono Apecoin, Luna, Dash, BAL, OMG, ENS, ZEC insomma è anche Ethereum V, la vecchia Ethereum quella che è rimasta diciamo collegata alla Proof of Work poi alcune questioni legate per esempio alla performance di Bitcoin qui ci sono alcune criptovalute che entrano nel currency index di Coindex quindi ci rientra Bitcoin quelle erano le peggiori e le migliori qui invece entriamo nei singoli settori per esempio nelle currency Power ha guadagnato un po' di più di Bitcoin che in realtà non la conosco poi abbiamo altre cripto un po' più semplici, insomma classiche tra cui c'è anche CRO, vedete, XRP, Mina, il BCH, insomma eccetera però sono tutte al di sotto di Bitcoin tranne appunto Power e ACK, ACH però il resto anche CH comunque vicino a Bitcoin quindi nel settore currency Bitcoin da padrone per chi ha visto la capitalizzazione anche che ha, vince a mani basse in pratica Bitcoin ragazzi e ha fatto un anno strepitoso, uno degli anni migliori che ricordo io appunto di performance del re delle cripto, poi invece per quanto riguarda gli smart contract come settore anche qui ING stravince insieme a Solana, AVAX STX e anche Optimum che ha negli ultimi periodi iniziato a performare veramente bene quindi ha fatto una performance interessante nelle ultime fasi quindi ETH, ETH è il nostro amato ETH che è la delusione dell'anno 2023 insieme anche a Matic, però Matic ricordiamo anche qui per ragione di causa diciamo che partiva da un anno 2022 dove era stato il migliore, uno dei migliori quindi anche qui è vero ha guadagnato poco nel 2023 ma perché non ha perso, ha perso pochissimo nel 2022 quindi in sostanza si era comportato meglio delle altre e anche qui però poteva fare sicuramente meglio ETH è invece una delusione perché 86% contro Bitcoin che ha fatto il 160% cioè un 70% praticamente ha raddoppiato i guadagni di ETH segno ancora una volta e lo ripeto, ribadisco da anni ragazzi come le questioni legate alle implementazioni sui protocolli e alla qualità e natura di un protocollo cripto, di un progetto cripto non hanno impatto nello short term in nessun modo anzi a volte sono peggiorativi come nel caso di Ethereum perché quello che è successo a settembre ha peggiorato la performance di Ethereum quindi la questione che si è diventato proprio stake in pratica non ha premiato la regina delle cripto poi magari nel long period potrebbe succedere che lo fa però voi, questo poi è una questione logica quando andate a investire dovete anche cercare di comprendere che se investite oggi in questo momento preciso su un progetto cripto non lo fate con le informazioni attuali e quelle informazioni attuali non vi garantiranno in nessun modo l'incremento della coin e del valore della cripto nel breve periodo short term che può essere anche due anni ragazzi quindi dovete comprendere questo concetto perché poi può succedere che in quei due anni cambia qualcosa e le informazioni che erano precedenti che voi avevate valutato in precedenza non sono più le stesse quindi quell'investimento non ha più senso di esistere in pratica vi trovate con capitali bloccati o con performance non all'altezza per anni e poi cambiano le cose che stanno appunto in gioco e uscite dall'operazione quindi è vero long period ragazzi ma ricordatevi che nel long period tutto cambia cioè anche le informazioni che voi avete in questo contesto preciso cambia quindi quando fate i portafogli ricordatevi che non è semplice come si vuole far pensare che le cose vadano perché non è così ragazzi anche top cripto che magari erano in vetta nel 2018-2019 sono scomparse o sono diventate così cripto così senza né più né capo né coda negli anni successivi la stessa Matic nel 2023 che era un cavallo di battaglia nel 2022 non ha performato eppure il protocollo è identico migliorato non è che peggiorato giusto per farvelo comprendere quindi scindete le due cose ragazzi il timing e il momentum è un altro concetto e non è rappresentativo di queste questioni allora poi passiamo agli altri all'altro diciamo paper che volevo farvi vedere oggi per chiudere il video la questione di un recap generale per esempio qui sono anche indicate il rialzo di bitcoin al 163% il Nasdaq che fa più 40% 4% il SP il 18% il gold il 12% ma era questo il anzi facciamo così ve lo mostro dopo questo ve lo mostro dopo vi devo tenere fino all'ultimo dovete stare qui con me perché l'ultimo video del 2023 dovete stare fino all'ultimo così vi do i saluti proprio alla fine ragazzi allora vi faccio vedere anche questo come la performance delle top crypto sia stata bellissima è vero che qualcuno di voi già sta dicendo Mauro il perdente dell'anno 2023 è sicuramente BNB è vero ragazzi ma io non considero gli exchange token come iper investimento cioè non li considero come apprezzabili in termini di prezzo in maniera consistente se non per volontà esclusiva dell'azienda che ne deve fare un uso in particolare e definito quindi BNB è vero che ha subito ma è anche vero che BNB è un utility token ragazzi quindi serve a Binance per fare le cose sue negli ultimi periodi sta guadagnando di più quindi probabilmente queste performance sono sbagliate che magari sono un po' datate di qualche giorno però sostanzialmente io non lo considero come una cripto che vedo in possibile fase di boom chissà come certo è vero seguiranno i settori seguiranno l'intero mercato questo sì quindi comunque io i BNB li ho ragazzi li avevo per la carta vecchia di Binance e li ho mantenuti tutti non li ho venduti quelli che ho non sono tanti per il mio portafoglio io in questi tipi di criptovalute investo solo ed esclusivamente quello che mi serve per avere i bonus che hanno loro partecipare a Launchpad eccetera ecco queste cose qui per avere la carta eccetera ma non sono investimenti notevoli insomma in termini di capitali Bitcoin 162 Ethereum 95 BNB meno 5 XRP 89% quasi quanto Ethereum giusto per intenderci Solana vince a mani basse nella top 10 del cripto nel 2023 567% con oggettivamente la questione che vi ho detto veniva da prezzi molto bassi ADA 84% quasi quanto Ethereum ragazzi ok DOGE 37% TRON 91% quasi quanto Ethereum e TON invece la cripto di Telegram 4% LINK 178 la seconda in classifica dopo Solana spettacolare questo rialzo tra le altre cose è una delle cripto che preferiamo in Academy per tanti motivi perché c'è Ray l'altra analista che la adora quindi è stata sempre molto analizzata nella mia Academy Link bellissima bellissima performance anche AVAX stessa identica cosa 146 Matic altro tra virgolette sconfitto del 2023 tra virgolette DOT che si è risvegliata solo nell'ultimo periodo e non è una cosa male malaccia perché sta facendo delle inversioni di trend di cui magari parleremo nei prossimi video quindi Bitcoin arriva terzo in questa classifica tra le top 10 vista la sua capitalizzazione in pratica è un incremento enorme perché in termini di capitalizzazione in valore assoluto è vincitore su tutte le criptovalute perché ha incrementato la sua capitalizzazione molto di più rispetto a tutte le altre cripto messe insieme ragazzi giusto per farvi capire l'importanza di un rialzo del genere di Bitcoin e questo è considerevole insomma va compresa questa cosa poi vabbè qui c'è anche la parte regata ai volumi ma non analizziamo chiudiamo in bellezza con questo grafico che è il grafico della volatilità intesa come le fluttuazioni del 3% in giorni che sono stati spesi all'interno dell'anno di Bitcoin con una fluttuazione al di sopra del 3% giornaliero di oscillazione sono pochissimi ma non sui minimi quasi ragazzi cioè nel 2023 la fluttuazione di Bitcoin è scesa tantissimo la volatilità di Bitcoin si è ridotta 14,96 15% i giorni che Bitcoin ha fluttuato al di sopra del 3% dal 3% in su tutto il resto dei giorni quindi l'85% dei giorni ha oscillato in barre di congestione ragazzi quindi tutto quello che avviene questo ve lo dice anche lunga su come funzionano gli investimenti tutto quello che avviene è avvenuto in 15 giorni nel 15% dei giorni scusate quindi tutta la performance di Bitcoin si è andata a sviluppare in pratica nel 15% delle giornate dell'anno se non siete preparati in quelle giornate lì è difficile che salite al di sopra di questi tipi di trend ragazzi poi ovviamente in quel caso meglio il dare assolutamente perché se non si ha una preparazione sufficiente è meglio il dare ricordandosi però che poi quando le cose vanno male dovete avere una strategia di fuga per quanto riguarda gli altri anni facciamo facciamo un riferimento e qui 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 volevo farvi vedere questa cosa qui ragazzi allora qualcuno di voi sta indicando sta sorridendo perché perché questa situazione la ribass diciamo la volatilità che viene a diminuire non è una cosa così aleatoria randomica ragazzi quando la volatilità di un asset diminuisce solitamente è come il concetto della molla che viene compressa viene compressa la molla che viene compressa e a un certo punto esplode ve l'ho spiegato un sacco di volte questa cosa tra le altre cose ci sono enormi strategie tantissime strategie che vengono create ragazzi anche da hedge fund eccetera proprio sul concetto della compressione della volatilità bitcoin ha avuto una volatilità compressa nell'anno 2023 questo è indice del fatto che l'anno 2024 la volatilità potrebbe aumentare ragazzi ora l'aumento della volatilità non è di per sé un evento che potrebbe indicare come negativo però è bene ricordare che tutto quello che sono di solito i mercati bearish hanno una volatilità alta per esempio il 2018 vedete è stata abbastanza alta il 2022 no come anno bearish come fu per il 2015 circa 2013 però per esempio era anche un anno con la volatilità abbastanza alta allora sostanzialmente quello che vi sto dicendo è questo ragazzi la direzionalità dell'anno 2024 è molto importante perché perché qualora il mercato propenda per una direzionalità in termini rialzisti è molto possibile è molto probabile che vada a sviluppare una volatilità spinta e che quindi vada a replicare un anno molto similare al 2017 attenzione che non è la stessa cosa in termini di rendimento il 2017 fu un anno stellare io me lo ricordo molto bene e non li abbiamo più avuti come il 2017 però in termini di volatilità potrebbe essere un anno il 2024 dove bitcoin tenta di fare molte più giornate al di sopra del 3% e quindi a volte anche giornate che scende che fa fluttuazioni più alte del 3% quindi aumenta la volatilità ma se la direzionalità sarà rialzista il trend sarà rialzista l'aumento di volatilità significherà che il rendimento del 2024 potrebbe raddoppiare anche quello del 2023 e questa cosa è importante perché il 2023 ragazzi ha fatto il 170% questo significa che se noi andiamo a fare il doppio nel 2024 significa fare 350% di rendimento che agli attuali prezzi del diciamo nostro amico BTC significerebbe avere un target price molto alto che ovviamente si aggira sopra i 100k questa cosa è tutta da vedere chiaramente però le volatilità i grafici sulla volatilità ragazzi sono molto più ripetitivi e molto più ciclici dei prezzi di mercato quello che dobbiamo controllare nell'anno 2024 sarà quindi la direzionalità se Bitcoin si chiude in un'oscillazione così allora questo ragionamento non funziona ma se Bitcoin rimane in un trend che è costante rialzista allora questa osservazione può avere significato ne parleremo nel prossimo anno e con questo io concludo insomma questo video l'ultimo del 2023 vi voglio bene ve lo dico di cuore ed è una cosa che penso si veda e vi auguro le cose più belle del mondo e nel prossimo anno buona fine buon inizio a tutti sbevazzate divertitevi sempre con cautela e noi ci rivediamo nel 2024 ciao a tutti stay crypto evviva Bitcoin ciao